Io credo che tutti gli sguardi altri siano portatori di interesse, perché danno una visione informale sulla vita e da questo punto di vista penso che tutti possiamo arricchircene vedendo dei film che abbiano una prospettiva cambiata. Molto spesso si vede un'omogenizzazione che poi proprio nei festival viene destrutturata da opere sorprendenti che riaprono la sensibilità degli spettatori che non siano troppo anestetizzati dai medium e stream, infatti anche questo sarà il nostro intervento all'interno del Festival di giornalismo, vorremmo dare una prospettiva che va oltre la cronaca e va oltre l'attualità per agganciarla a quella che è l'universalità del racconto umano. È molto importante parlarne in un certo modo, cioè parlarne in modo che il sociale o il disagio diventi un'indicazione per chi pensa di non essere nel disagio ma molto spesso ha ridotto la propria capacità di interpretazione della vita e di interazione con il resto dell'umanità. Molto spesso situazioni di disagio ci riportano a quella che è la natura dell'essere umano, alla storia dell'essere umano e quindi alla forza e all'energia vitale che dobbiamo sempre sprigionare di fronte ai nostri simili.